Sì, lo volevo dire al final, ma già che mi chiedi... Per me è stato un momento incredibile nella mia carriera. È stato un piacere straordinario giocare con la maglia della Spagna. Sono orgoglioso di averne fatto parte così a lungo. Negli ultimi 6-8 anni abbiamo vinto tantissimo. Sono felice per il lavoro svolto, molto felice. Auguro il meglio a tutti i ragazzi e sono felice che Vicente del Bosch abbia deciso di restare. Da ora sarò solo un altro tifoso della Nazionale. Il mio cammino finisce qui. Grazie.